Al comando delle operazioni, in avanti, Nerede Jet su Notte in Una Piena, poi il numero 4 di Urasil Room, l'errore di Urasil Room, quindi in avanti è Nerede Jet, Nerede Jet che controlla subito l'iniziativa, c'è Notte in Una Piena che cerca di sistemarsi alla corda e quindi allargo anche Maribon PG, in avanti è Nerede Jet, Nerede Jet che controlla la situazione nei confronti di Notte in Una Piena, poi Maribon PG, quindi gli altri con il numero 9 di Nagual della Luna che prende la schiena di Maribon PG, quindi Gildi Renzo, via via tutti gli altri, Nerede Jet a menare la danza, allargo Maribon PG su Notte in Una Piena, poi c'è il numero 1 di Orma OR, segue poi Jeper che prova a venire via, in avanti Nerede Jet, Notte in Una Piena, poi allargo Merico, quindi in avanti Nerede Jet, Nerede Jet che controlla la situazione, Nerede ancora Notte in Una Piena, poi allargo Nagual della Luna, Nerede Jet che controlla, poi Nagual della Luna che prova a venire via, a sfarzare l'attacco deciso, quindi a Nerede Jet, poi Notte in Una Piena, l'errore di Nagual della Luna, in avanti Nerede Jet, poi Notte in Una Piena, ancora il numero 6 di Gildi Renzo, in avanti Nerede Jet, Nerede Jet, poi ancora il numero 3 di Notte in Una Piena, quindi il numero 6 di Gildi Renzo, in avanti Nerede Jet, Nerede Jet che ha chiuso la partita già a traguardo lontano, e viene a vincere facilmente Nerede Jet, quindi Nerede Jet che vince nettamente al secondo posto, nel finale c'è il numero 6 di Gildi Renzo, al terzo, il numero 3, 263, l'arrivo ufficioso di questa corsa, vittoria facile facile di Nerede Jet, Rosario Gambino 288, la quota al totto. Grazie a tutti.